Siamo arrabbiati tutti perché prendere gol, come ho già detto, con un uomo a terra è un'azione che perdura, quindi non è un attimo, non ce ne siamo accorti sulle bugie, quelle robe lì. Non mi piace che la gente dica le bugie. Quell'uomo a terra che tiene tutti in gioco, neanche solo che è l'uomo a terra perché se in un'altra zona del campo giochiamo anche in 4 contro 11, ma con un uomo a terra in area piccola non buttare via la palla e non fermare il gioco è una roba che penso che sia antisportiva come raramente ho visto in vita mia. Purtroppo eravamo uno in meno e abbiamo avuto Zoya con i crampi in area piccola che non riusciva più a camminare e questo ci ha impedito di giocare ecco. La Misa ha fatto una buona gara che è difficile da commentare perché in una gara del genere non portare a casa niente ti fa arrabbiare parecchio. Purtroppo non me l'hanno fatto nemmeno godere questo primo contro i professionisti, che dobbiamo fare? Purtroppo è stata una partita molto intensa, dura, peccato per Zoya che si è fatto male all'ultimo. Dobbiamo cambiare un po' in positivo. Spero che infatti ci alleneremo molto di più durante la settimana perché ovviamente il lavoro paga, sperando che i risultati arrivino.